Jimmy, ti dico che così non va bene. Non è vero, guarda, è carinissimo. Ragazzi? Ciao, Camera Girl. Ecco, vedi, lei potrà sicuramente aiutarci. Ma scusa, perché non ti piace come disegno io? Fammi pensare, no. Sei crudele, Mike, crudele. Che cosa stavate disegnando? Allora, Camera Girl, ti spiego. Ecco, stiamo disegnando un fumetto su me e lui, però che siamo, insomma, tipo come in Dragon Ball, no? Oppure in Naruto. Quindi un anime? Sì, però fatto a fumetto. Quindi un manga? Sì, però nello stile anime. Ok, Jimmy, sei un po' confuso. Vabbè, comunque, adesso stiamo disegnando i nostri personaggi, no? E a Mike non piace il disegno che ho fatto io. Ci ho messo tantissimo impegno, ci ho messo tutta la notte per disegnarsi. Mike fa vedere, sono sicura che il disegno di Jimmy è bellissimo. Oh, beh, fa pure, Camera Girl, guarda. Questo con la cresta sarebbe Mike? Sì, hai visto che si capisse? Hai visto che sono perfettamente riconoscibili? Ma è ovvio, Jimmy, uno alla cresta e uno no. Ma non possiamo fare un fumetto con questi disegni o andiamo? Mia sorella Mimi saprebbe fare molto meglio. Oh, che terribile offesa. Sono un fallimento. Ma no, Jimmy, devi solo imparare come si fa. Mi insegni tu, Camera Girl, mi insegni tu. Beh, io non sono proprio un'esperta, però vediamo cosa si può fare. Sì, adesso la Camera Girl mi insegna a disegnare. E noi faremo un fumetto spettacolare. Capisco sempre di più perché sei il fidanzato di Candy. E poi tutti sapremo disegnare. Ed il fumetto potremo pubblicare. Addirittura non dobbiamo pubblicarlo, Jimmy. È un fumetto che stiamo facendo solo per noi. Va bene, comunque quello di delineare i personaggi principali lo vedo un buon inizio. Ed inizieremo proprio da Mike. Pronti? Glitters, oltre a Jimmy, prestate attenzione anche voi. Io realizzerò questo disegno in digitale per dare più l'effetto da anime o manga. Ma quello che vi farò vedere potete tranquillamente farlo con le matite e i pennarelli come vi ho fatto vedere negli altri tutorial. Iniziamo! Allora, come sempre, iniziamo da un cerchio, poi mettiamo un triangolo in basso. Per quanto riguarda gli occhi, facciamo come un triangolo allungato e poi lo chiudiamo in alto e in basso con due linee orizzontali. Poi facciamo le sopracciglia e ovviamente facciamo una pallina al centro del nostro triangolo allungato. In realtà, se ci pensate, ha tipo la forma di un pesciolino quest'occhio. E poi mettiamo anche la pupilla. Allora, adesso passiamo al naso che faremo partire dal sopracciglio di destra, cioè la destra di Mike. E poi facciamo le labbra con una striscia che avrà un piccolo triangolino all'interno. Poi facciamo un trattino piccolo in alto e un trattino più lungo in basso. Io poi vado a sistemare le proporzioni. L'avrei fatto anche sul foglio normale, semplicemente cancellando e riprovando con i programmi in digitale, ovviamente è un po' più facile. Purtroppo disegnare i ragazzi è una cosa in cui ho sempre avuto un po' di difficoltà, però ci proviamo. Allora, adesso ho messo le basette, ho fatto l'orecchio, il collo che ho fatto partire dall'orecchio e dall'inizio del mento. E poi passiamo ai capelli. Facciamo una cresta in puro stile Dragon Ball, quindi esattamente come i capelli dei Super Saiyan. La forma della testa comunque non mi convince moltissimo, ma andrò a sistemarla dopo. L'errore che ho fatto è fare l'attaccatura dei capelli troppo alta. Però, come vi ho già detto, andrò a sistemarlo dopo. Una volta fatta la bozza, come per gli altri tutorial che vi ho fatto vedere finora, prendiamo il nostro pennarello e ricalchiamo tutte le parti che secondo noi sono giuste. Se dovete sistemare qualcosa, questo è il momento, perché poi una volta passato il pennarello non potete più cancellare niente. Oh sì, e questo è un bel problema, io le ho fatte direttamente a pennarello le mie. Eh no, Jimmy, va fatto prima a matita come bozza e poi ci passi il pennarello su quando è definitivo. Ah, d'accordo, sì, così ha molto più senso. Già. Mi raccomando, siate precise e ricalcate come vi ho insegnato negli altri tutorial. Dove magari ci andrebbe la luce, fate il tratto più sottile, dove c'è più ombra, fate il tratto più spesso. Adesso passiamo al colore, che in questa fase voi potete scegliere quello che volete. Pennarelli, pastelli a cera, pastelli normali, quello che volete. Io ho i pennarelli. Allora usa i pennarelli, Jimmy. Dunque, la testa di Mike la facciamo blu scuro, poi la cresta la facciamo turchese, Mike ha gli occhi castani e le sopracciglia rossicce. Adesso vado con un colore più scuro, una specie di marroncino, per fare le ombre dell'incarnato. E poi ci vado col colore che serve proprio per l'incarnato, cioè quello più chiaro. Ma voi potete anche fare l'opposto, dipende come vi trovate. Potete anche fare prima il più chiaro e poi il più scuro. Oh, che forza! Già sembra molto più professionale così. Infatti poi vi consiglio di tenere vicino a voi un'immagine di riferimento, tipo una di Dragon Ball o una di Naruto, così potete vedere loro come hanno colorato il personaggio. Una volta fatte le ombre andiamo con i punti luce, li metto sulla cresta, li metto anche un po' sull'incarnato, usando un colore molto più chiaro. Quindi avremo un chiaro, un intermedio e uno scuro. Chiaro, intermedio, scuro, ricevuto! Io avevo usato solo il pennarello. Eh, vabbè, perché Mike non ti aveva dato l'ok, non eravate giunti al colore. Io poi vado ad aggiungere uno sfondo che rappresenti un po' la personalità di Mike. Qui sto mettendo vari fulmini e cose. E poi scrivo il suo nome a mo' di graffito. Oh, Camera Girl, questo sì che è un bel disegno! Hai visto, Jimmy? È così che dovevo venire! Wow, bellissimo! Eh, sì, effettivamente... Effettivamente è un po' diverso dal mio, sì, è un po' più bello. Però ho capito come disegnare adesso, Camera Girl, grazie. Beh, adesso, Glitters, dovete assolutamente provarci voi a casa. Sì, 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 provatesi insieme a me e ripostate i vostri disegni nelle stories. Poi la prossima volta facciamo anche me in versione anime e manga. Certo, Jimmy! Bene, Glitters, il nostro video finisce qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto e come vi ha detto Jimmy, provate a fare questo disegno a casa. Ovviamente non è necessario il tablet o che lo facciate in digitale, va bene anche cartaceo. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Grazie mille per aver guardato il video fin qui. Io vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!